Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Allora, so che mi volete tantissimo, mi volete proprio un morto e quindi mi fate continuare a giocare a Battlefield 3 Come sapete che non è il mio genere di gioco, però io lo faccio Poi ovviamente le spese per le cure psicologiche, cioè che avrò problemi in testa per colpa di questo gioco Me le pagate voi, vero ragazzi? No, a parte gli scherzi ragazzi Quindi, andiamo su molti giocatori Vedo che comunque sia, quando mi metto a giocare online, per voi, per farvi vedere delle partite Come poi se... adesso... adesso... problemi Come può essere ad esempio su Battlefield 3 O Crisis 3 Se non vi siete accorti, io faccio partite allucinanti Cioè, le faccio molto buone Almeno finisco bene sempre con degli score positivi Quindi, non so perché, ma su YouTube riesco a fare delle partite ottime La cosa brutta, l'unica cosa che rimane di brutto di questo gioco Ovviamente io vi metto sempre deathmatch a fazioni Perché altrimenti le partite durano 80 anni Scegliamo una mappa diversa ragazzi, perché mi ha veramente rotto il cazzo adesso con la mappa che facciamo di solito Io direi di fare... boh... fate vedere... confini sul caspio Dai proviamo confini sul caspio Comunque sia, l'unica cosa ragazzi che mi dà fastidio è il fatto che... Comunque sia, YouTube mi stia caricando male i video Magari nelle... tra... quando taglio un video Metto un video, ad esempio taglio uno spazio come può essere questo del caricamento Lo tolgo E... tra il video che ho tagliato e l'altra parte del video che è stata tagliata Si crea quel... cioè non lo so Si viene a creare quella specie di fascia di pixelloni Perché si vede di merda il video Cioè si vede in quel punto il video di merda E a me sinceramente mi fa veramente incazzare Non so perché lo faccio soprattutto E... ragazzi, cosa vi devo dire? Purtroppo YouTube fa queste puttanate Io devo caricare il video così Finché non lo metto a posto, non lo so Eh, siamo in partita Ci chiamo di ammazzare il più avversario possibile E vedo già... uno! Salta! Dai! Cazzo! Non muore ragazzi Assistenza uccisione Perché io l'ho spaiato Ma che c... Ah bello, bello, bello Sono un po' vicino allo schermo ragazzi Ok, perfetto Siamo messi perfettamente Allora, proviamo a mandare da qui a destra Ovviamente io le odio stermop Perché sono... Ci vuole trent'anni a provare un avversario E quando ti trova vi ammazza subito È grande! Vaffanculo Facciamo il giro lungo ragazzi Facciamo il giro lungo Quindi ammazziamo Eccolo! Nooo! Ti ammazzerò bastardo Ti ammazzerò Ragazzi, sono troppo indietro in questo gioco Troppo indietro Siamo in testa? No, siamo anche in testa Uh! Dai! Ma dai cazzo! La capa è veramente forte ragazzi Allora, andiamo, andiamo, andiamo Non lo sparo perché Grande! Allora lo sparo Ma dai! Mmm! Cazzo! Troppo abitato a Call of Duty ragazzi Troppo abitato a Call of Duty Completamente diverso Sono qui Sono qui ragazzi Andiamo, 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 andiamo Andiamo Comunque un paio d'acqua qua No? Uh! Cazzo! Mi son cagato! Eh! Ma stai zitto E stai tranquillo Ma dai! Ma questo! Ma questo! Questo qua sta campanando sul tetto Cazzo Sì credo Ma perché rimani fermo qui? Ah! Ecco perché Te ne stai andando via Ma stai ammazzo io Bastardo Ti vengo a prendere io sul tetto Ma vai a cagare Stronzo Vai a cagare Ma muori grande Sono il più forte Vi ho straccato Vi ho uccisi entrambi Ma che movimenti ha fatto ragazzi? Ma sono umani Cazzo sono alieni Uh! Eh ma non l'avevo capito zio Gua mi stanno mangiando Trentamila granate Cioè ma abbiamo un compagno di merda Bello! Bello 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 Questa cosa era fantastica Grande zio! Fammi scappare Ma perché mi metti la pistolina in mano? Ma se ad esempio non volessi la pistolina? Ma bruciati stronzo! Insomma in automatico mi metterà il mirino ragazzi Perché questa cosa non è che mi fa scegliere A me piace così l'arma Grande zio! Allora Vediamo un pochettino cosa possiamo trovare Ah! C'è un bastardo Guardatelo! Ma guardatelo ragazzi! Comparato tra le rocce cazzo È un ragnetto Grande Ma muori stronzo E proteggimi coglione! Compagno di merda ragazzi Compagno di merda Cazzo Cazzo Questo rumore Ah! È un avversario Pensavo fosse quella cazzo di cosa Pensavo fosse il drone ad attacco di Oh il drone ad attacco Il Come cazzo si chiama Con la storia di Ma perché? Perché? Perché siete così stronzi? Ignobili cazzo Ignobili ragazzi Ignobili Ecco perché non gioco a Call of Duty Eh a Call of Duty a Battlefield Almeno chiedetemi di giocare a me da fondo Cazzo Non questo gioco Già mi fai ne... Oh! Ma ti blocchi... Dai! Ma non sei saltare neanche un tronchetto di legno Ne ha uno dietro ragazzi Ma che cazzo Pensavi di incularmi eh Pensavi... Un altro Non c'è nessuno Non c'è nessuno Ovviamente lui si assalta alle scale Ma zio Sono un genio Ma muori stronzo Cazzo di... Fottuti i camper Ragazzi Allora Purtroppo non avete visto le mie mani Io ho fatto questo giochino Ho spostato verso sinistra Non mi si è mosso il giocatore Eh vabbè Perché se mi sparano Ovviamente io sono ammincato E non riesco neanche a muovermi Perché è così il gioco ragazzi Se uno ti spara raga Cosa fate? Rimanete fermi Vi fate ammazzare In guerra è così Io vi faccio sempre i paragoni con la guerra ragazzi Perché poi c'ho dei compagni di... Mamma mia E ovviamente se sei un soldato di merda Non sai neanche saltare dentro una finestra Mammo Ristro... Ragazzi non dico più niente a questo punto Vabbè Sparo un caricatore L'avevo già spaccato verso un avversario L'avevo già spaccato verso... Contro un altro avversario Però Gli ho sparato Un bel po' di proietti E devi morire Cazzo Non è che sopravvivi Dai 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 Ma cazzo quanto sopravvivi Ma tu Tu sei sempre lì Ah spero per lui che sia incastrato Perché adesso lo vado a prendere Me lo mangio a cazzo Dai fuori dal cazzo Compagno di merda Cioè lanciano misi Ragazzi Lanciano tutti tutti di più Ma non soldi Ma non soldi Cioè non sai saltare un pezzo di legno Cazzo Ho saltato impedito Fai schifo Ma perché ti hanno matto in guerra Ma versione kamikaze ti dovevo mandare Con le bombe addosso No Ma perché Perché Ovviamente chi si poteva unire Alla mia parità Kree 99 Xbox 360 Ma muori stronzo Sono il più forte Però sono mezzo morto ragazzi Bello Ok Ma dove cazzo sono gli avversari Bello 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 Ah Questo non l'avevo visto Questo Ragazzi Se mi metti il dato Benissimo Cazzo Non l'avevo mai visto È tipo un camaleonte Raga Adesso sparo Allora Il kree che si fa ammazzare Grandissimo Wuhuuu Eh Eh Smetti Cazzo Cazzo Ero nascosto Ero nascosto E lui mi spara l'erbetta Cazzo Stava corciando Eh Ma grande Eh Dai Abbassati Ma dai Ma perché mi fai rinascere a fianco ai nemici Dai Non cambiamo l'arma Non tossiamo Ah Anche a poco ragazzi Non ho male Un coltellino Ah no Stavolta non lo spacca Vabbè Andiamo Quasi finita ragazzi La partita Vaffanculo Abbiamo perso Vabbè Comunque se siamo divertiti Andai È anche durata Meno del previsto Visto che Così possiamo farci Cioè posso dire Di aver fatto una partita intera Su Watt e Fil Online Su Youtube Cazzo ragazzi Vediamo cosa abbiamo sbloccato Sono quasi a livello 30 Raga Sono quasi a livello 30 Dai No Piano Piano Poi ragazzi Ditemi Come cazzo Ho fatto a giocarci Tutta una vita Questo gioco Per arrivare a livello 80 Quello che cazzo è 50 Del grado massimo Di questo gioco Dovete passare almeno un annetto Almeno Io non lo so Io ho fatto 23 Quindi sono stato il migliore Della mia squadra Mi fa piacere questo Quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come al solito Ovviamente Cri Doveva collegarsi Perché doveva Farsi vedere il mio video Giustamente Bravo Cri Il migliore No scherzando Comunque sia Mi è fatto piacere Che si sia collegato Nella mia squadra Anche se è colpa sua Perdiamo Lo sappiamo già E niente ragazzi Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace Se ovviamente avete apprezzato Il mio video Su Watt e Fil Tra le chiedetemi Eppure altri Non c'è problema Stavo scherzando Lo sapete che li faccio volentieri Ovviamente Adesso usciamo da questa partita Usciamo tra un attimo E quindi niente ragazzi Da Cura Non andate in tutto Ci vediamo alla prossima Ciao raga